Hai due secondi, vai. Le armi saranno fissate sotto il tavolo dello Champagne. L'ambasciatore arriverà esattamente alle otto e trenta. Se tardasse? È un tedesco. Sarà puntuale. Come mai non conosci gli Stan? Li conosco, gli Stan. Non avevo visto che avevi già messo la sicura. Ma non avrai problemi a usarne uno alla festa? Non ne avrai nemmeno se dovessi usare le posate. Grazie.